grazie a tutti ringrazio il servizio patrimonio culturale che ci ha invitato visto che collaboriamo su tanti temi ecco mi dicono che voi non le vedete le vedono da casa quindi io per quelli di casa non dico nulla per voi ve le racconto allora innanzitutto volevo fare alcune domande la prima è perché perché tutelare queste piante visto che sono malate vecchie a volte pericolose quindi qualcuno si può nel tema ma perché le dobbiamo tutelare allora sui temi paesaggistici qui ci sarebbe un'immagine di un albero tipo quello del manifesto dove si vede quest'albero in un prato e questo è un valore paesaggistico innegabile perché è evidente che un prato senza quell'albero lì sarebbe un banale prato invece con quell'albero lì c'è un valore aggiunto ma sul tema del paesaggio io mi fermo qui perché sono altri relatori che tratteranno il tema volevo farvi vedere il cipresso ma è noto il cipresso di verrucchio di san francesco l'albero più vecchio che abbiamo 800 anni pare ecco questo è un albero che ha un valore storico culturale religioso innegabile cioè è un albero un pezzo unico voglio dire non possiamo toglierlo e sostituirlo con un albero qualunque preso al garden questo è un albero unico che va tenuto su in tutti i modi tant'è che è puntellato con dei pali proprio perché ha un valore storico unico finché dura teniamocelo da conto poi c'è il valore naturalistico su questo mi soffermo un secondo in più qui ci sarebbe l'immagine di un albero monumentale in un bosco e io mi ricordo quando facevo anni tanti anni fa scienze forestali ci dicevano all'università che si chiama queste sono piante lupo con un concetto negativo dell'albero cioè piante che ormai non crescono più piante quindi che hanno un incremento diametrico limitato a volte anzi delle due calano come volume quindi dal punto di vista puramente produttivo sono alberi inutili sono alberi che occupano uno spazio nel bosco ma che alla fine se si tolgono e si fanno crescere dagli alberi giovani dal punto di vista produttivo di chi quantifica in euro il valore di un bosco è chiaro che hanno un valore negativo che andrebbero tolti e sostituiti con alberi giovani perché l'albero giovane cresce di più a un incremento maggiore ogni 10 15 anni posso fare un camion di legna mentre se c'è quest'albero qua vecchio vetusto e che però ha delle dimensioni tali per cui occupa molto spazio non produce nulla ecco questo concetto di albero lupo che poteva andar bene quando studiavo io adesso direi che è superato dovrebbe essere superato purtroppo non lo è per cui il concetto di albero monumentale nel bosco è fondamentale cioè questi sono alberi che hanno un ruolo non solo storico perché magari lì c'erano delle attività dei pastori o dei servicoltori di tanti anni fa qui c'è un'immagine in cui si vedono tutti gli animali che abitano questi alberi cioè questi sono alberi popolati da micromammiferi uccelli funghi eccetera c'è un ecosistema in questi alberi che negli alberi giovani diciamo in piena salute non possono vivere quindi la perdita di uno di questi alberi monumentali è una perdita per l'ecosistema quindi vanno tenuti e poi questi hanno un vantaggio grosso cioè non sono pericolosi perché non essendo in una strada in una piazza se anche hanno un ramo secco che casca non succede nulla quindi hanno meno costi di gestione veniamo al come cioè come li tuteliamo questi benedetti alberi monumentali allora la legge regionale del 77 è stata già citata è una legge un po' vecchiotta che ha più di 40 anni quindi andrebbe rivista e attraverso i decreti ne abbiamo fatti 47 finora come regione ne abbiamo tutelati i 600 di queste piante in realtà sono molti di più sono più di mille perché nei decreti spesso si tutelano i filari o i gruppi il filare pesa 1 ma magari 20 piantano quindi in realtà sono più di mille le piante tutelate all'interno di questi 600 abbiamo i 103 nazionali il numero scilla perché ad esempio adesso è arrivato sono arrivati due comuni dalle marche che si sono sferiti in Emilia Romagna quindi uno o due alberi monumentali che hanno loro diventano alberi dobbiamo ancora fare il decreto ma diventeranno in automatico nostri poi c'è tutto il tema della tutela del vincolo paesaggistico e del decreto legislativo 42 del 2004 che anche lì aggiunge tutela soprattutto per gli alberi nei parchi nelle ville storiche quindi noi abbiamo un certo gruppo di alberi da gestire oltre i 600 che abbiamo tutelato ce ne sono altri 200 che abbiamo tutelato ma abbiamo poi tolto la tutela perché nel frattempo ci sono ammalati sono morti o il vento o le nevicate li hanno stroncati quindi 200 li abbiamo persi per strada allora cosa tuteliamo è chiaro che noi tuteliamo alberi singoli alberi in filare alberi in gruppo uno dei limiti della nostra tutela finora è stata quella che ci siamo concentrati nei censimenti periodici fatti solo su alcune specie cioè abbiamo per darvi un numero su 600 specie su 600 piante 360 sono querce cerro frassino scusate farnia roverella eccetera poi delle altre specie degli altri generi siamo molto più scarsi vi do alcuni numeri platani siamo sul 40 più più 30 ma abbiamo pochissime esemplari tutelati di specie importanti i castagni sono 10 e gli aceri sono 9 cioè abbiamo delle specie importanti poco rappresentate quindi noi dovremo nei prossimi anni incrementare soprattutto la quota di queste specie che però purtroppo ancora non hanno il vincolo alcune addirittura non esistono non abbiamo ciliegio abbiamo due abete quindi poche specie cioè molte specie ma alla fine con pochi esemplari dove sono adesso io non vi posso far vedere la tabella perché ve la riassumo abbiamo 147 comuni che hanno almeno un albero tutelato e detto prima la bologna la fa da padrone perché ne ha 161 segue modena l'ultimo il fanalino di code ferrara anche qui oltre a incrementare il numero di specie di esemplari per specie dobbiamo anche andarli a cercare nelle aree che sono un po' scoperte perché sicuramente ferrara dal punto di vista forestale non è l'eccellenza perché sappiamo qual è la sua conformazione territoriale però nei parchi nelle ville di ferrara ci sono un sacco di alberi che hanno i requisiti per essere tutelati andiamo a dare alcuni numeri a livello economico perché questi alberi richiedono anche interventi e quindi risorse economiche noi abbiamo fatto un bando nel 2021 con 254 mila euro 54 mila euro ce li ha messi il ministero 200 la regione e con questo bando abbiamo ricevuto domande per più di 400 mila euro dovremmo fare una graduatoria una selezione e alla fine finanziare i progetti più urgenti e più meritevoli cosa paghiamo con questi fondi? con questi fondi paghiamo le rimonde del secco cioè interventi molto soft noi non paghiamo potature pesanti perché questi alberi meno li tocchiamo e meglio è se interveniamo è un motivo di pura sicurezza cioè lo facciamo per noi non per l'albero l'albero meno ci vede meglio sta però siccome l'uomo a volte soprattutto se sono in centri urbani vive e attraversa quelle aree lì è chiaro che dobbiamo mettere in sicurezza per mettere in sicurezza o facciamo delle mini potature, rimonda del secco o dei consolidamenti come quello che non ho fatto vedere del cipresso di San Francesco oltre a questo abbiamo interventi sul suolo, miglioramento delle condizioni del suolo, la zona di tutela di protezione dell'aria perché noi guardiamo spesso la chioma ma le radici hanno dei problemi che vanno gestiti e poi a volte mettiamo anche i cartelli a fini divulgativi e informativi oltre che alle analisi tecniche che servono qui c'era un esempio di cartellonistica che con un manuale è stato di recente approvato quindi la segnaletica ormai sarà uguale per tutti gli alberi con una grafica unica allora vediamo due parole sul futuro perché adesso non so che tempi ho però allora cosa vogliamo fare nel futuro insieme a tutti i colleghi perché noi lavoriamo in stretto contatto col servizio fisico sanitario col servizio paesaggio ovviamente col servizio patrimonio culturale ma non solo, lavoriamo anche con i calabinieri forestali con cui andiamo d'accordissimo con i comuni perché i comuni sono i soggetti che sul territorio sono i sensori, sono loro che ci dicono come sta l'albero noi non abbiamo la capacità di essere capillari su tutto il territorio quindi senza i comuni saremo in difficoltà dobbiamo rivedere la legge perché abbiamo alcune cose che sono da aggiustare, le sanzioni che sono di 40 anni fa dobbiamo rivedere le competenze anche dei comuni perché diciamo ci sono comuni attenti, comuni grossi che hanno un servizio verde quindi sono sul pezzo, abbiamo dei comuni piccoli che non ce la fanno a stare dietro anche a questa materia quindi dove non arriva il comune dobbiamo trovare il modo di arrivare noi o ad esempio in certi casi l'ente parco quando c'è quindi dobbiamo rivedere le competenze, le procedure, sia delle autorizzazioni sia dei contributi e poi le sanzioni come dicevo che sono inadeguate quindi da un lato dobbiamo avere la garanzia di nuove risorse perché ogni anno dobbiamo fare un bando per dare dei soldi per quando c'è bisogno dobbiamo anche differenziare il modo di dare questi contributi perché un conto è fare un bando a settembre 2021 per gli interventi 2022 con una programmazione però da qui a quando faremo gli interventi 2022 passa un anno quindi ci può essere una nevicata, un temporale, una tromba d'aria, qualcosa che ci mette in crisi altri alberi che non sono oggetto del finanziamento quindi noi dobbiamo trovare il sistema di finanziare anche queste emergenze qua non solo quelle di quelli programmabili ma quelle che vengono tra un bando e l'altro dobbiamo gestire anche quell'interregno lì. Poi dobbiamo controllare di più perché purtroppo assistiamo a volte a interventi non autorizzati, potature pesanti che poi mettono in crisi tutto lo sviluppo di queste piante quindi dobbiamo trovare un meccanismo per cui alla fine prima di toccare l'albero c'è un permesso di qualcuno che sia del comune o della regione però ci vuole un'autorizzazione specifica e dobbiamo soprattutto migliorare la professionalità delle imprese cioè spesso il proprietario o il comune si avvale di figure tecniche normali il giardiniere piuttosto che la cooperativa piuttosto che la ditta del paese no, in questi casi bisogna avere del personale specializzato perché queste piante non si possono gestire come le altre piante hanno delle delicatezze e delle peculiarità per cui alla fine se non c'è l'esperta andiamo a fare anche dei danni quindi oltre a spendere dei soldi fare dei danni non mi sembra il massimo quindi prima di toccarli ci vuole qualcuno che ne sa e poi avviare un nuovo censimento perché abbiamo detto che su certi fronti a livello di province e a livello anche di specie siamo scoperti poi abbiamo in mente di sistemare un po' la banca dati perché alcuni dati della banca dati sono da aggiornare e con una georeferenziazione tale per cui il cittadino possa anche consultarla ma implementandola anche con tutta una serie di informazioni che adesso ci sono ma non per tutti gli aspetti storici, guardo i colleghi del patrimonio culturale vanno implementati perché ovviamente questi alberi hanno una storia alcune conosciute, alcune da scoprire e se non facciamo in fretta rischiamo che la memoria popolare di quella zona lì sparisca perché chi ha assistito a certi avvenimenti avrà già 70-80 anni quindi bisogna cercare di catturare queste informazioni storiche prima che le perdiamo per sempre quindi una maggiore attenzione sugli aspetti culturali oltre che ovviamente quelli botanici delle dimensioni e dello stato di salute e poi ovviamente rafforzare la collaborazione fra gli enti perché siamo in tanti, i comuni, la regione, i vari servizi della regione i carabinieri forestali, i parchi bisogna che ci coordiniamo perché siamo tutti sul pezzo ma non dobbiamo né sovrapporci né avere dei vuoti quindi il pacchetto delle cose da fare è chiaro e più farlo perché poi questa attività non è l'unica che svolgiamo e quindi ci lavoriamo ma non a tempo pieno io volevo farvi vedere alcune immagini che però le vedranno quelle di casa sono alcuni degli esemplari più rappresentativi qui c'è il platano di Carpinello abbiamo il filare di Tigli di Zola Predosa e altri esemplari che fanno capire come questi alberi sono dei pezzi unici cioè non li possiamo né comprare né spostare né costruire chi ce l'ha se lo tiene e chi non ce l'ha non ce l'ha quindi sono pezzi che bisogna tenerli da conto fortunati chi ce l'ha nel proprio giardino, nel proprio parco, nella propria strada però non sono replicabili quindi degli esseri viventi avranno una fine però finché campano dobbiamo tenerli da conto con qualche intervento di cura laddove necessario tutelarli per evitare che qualcuno al mattino si alzi e faccia dei danni soprattutto quando c'è un problema di responsabilità perché non va stato valutato che se poi l'albero casca il proprietario ne risponde quindi comunque bisogna garantire anche questo aspetto qua e poi puntare molto sulla formazione noi insieme ai colleghi del patrimonio culturale il 2 e il 13 dicembre faremo un'iniziativa rivolta ai comuni proprio sugli aspetti sia il 2 più sugli aspetti di manutenzione e il 13 più sugli aspetti giuridici e normativi anche sulla responsabilità proprio per informare i comuni di tutte le novità e di quello che bisogna conoscere per tutelarli al meglio quindi in sostanza abbiamo bisogno anche dei cittadini perché molte segnalazioni di nuove tutele arrivano direttamente dalle associazioni o dai cittadini e quindi di lavoro ce n'è molto ci proviamo direi che se poi avete delle domande chiudevo qua con il cipresso della scuola che fa capire di cosa stiamo parlando cioè sono pezzi unici e meravigliosi che speriamo che resistano nel tempo ancora un po'